Eccomi, io sono Alexandra, lavoro in fondazione da 5 anni e questo lavoro lo trovo molto speciale come lavoro perché è una grande opportunità sia per noi che incontriamo tutti i giorni le persone sensibili, sia per le persone che incontriamo perché condividiamo un messaggio molto importante, è molto bello, un messaggio è vivi appassionatamente che per noi vuol dire sorridi tanto e arrabbia di poco, il mondo oggi ha bisogno di più sorrisi possibili il nostro messaggio lo portiamo a tutti, quando incontriamo le persone li parliamo del progetto della fondazione che è scuola nel mondo e le persone ci sostengono, tutti quelli che oggi non riescono, non possono comunque vanno via con il messaggio nel cuore di vivere appassionatamente e di ricordarsi che la vita è un dono ogni giorno. Nella campagna Emergenza Educazione incontra le persone nelle città durante tutto l'anno e porta questo messaggio a tutti quelli che incontriamo di farsi sentire partecipi, partecipi innanzitutto di questa situazione che c'è oggi è quindi una situazione di grande disagio da una parte, in tutto il mondo, un disagio educativo dei valori, dall'altra parte cercare certamente sostegno ma questo sostegno sono le persone che hanno capito il messaggio, che hanno capito che oggi dipende da noi, che siamo partecipi e che proprio noi siamo chiamati a fare qualche cosa e questo qualcosa per noi e oggi poco. A mezzo caffè al giorno qui certamente la vita non ce la cambia oggi, dall'altra parte del mondo per i bambini di cui ci occupiamo noi diventa una grande opportunità di una vita diversa, diventa cibo, cure mediche, scuola, tutto quello che per noi è così essenziale e lì non è scontato, è per questo che tante persone si sentono felici di partecipare perché è bello essere partecipi di una cosa bellissima e b perché oggi è possibile per tutti. Vivi appassionatamente!